si incontrano come in un vero e proprio mundialito si confrontano per un'intera serata con tornei che durano anche tre ore e si concludono a notte fonda sono gli appassionati del calcio balilla uno sport che in realtà sotto traccia non ha mai smesso di crescere di coinvolgere sempre più generazioni le giovani generazioni accompagnate in realtà dai vecchi maestri che si affiancano ai giovani in tornei a doppio giallo sia con estrazione nell'abbinamento delle coppie a Roccafranca nel bar Sant'Antonio ormai è un'abitudine il mercoledì trovarsi con campioni affiancati a principianti o semplici appassionati la stessa cosa avviene in altri centri del ovest bresciano per esempio a calcio il martedì calcio per la verità comune bergamasco ma di fatto a confine con la provincia di Brescia ancora a Rudiano il giovedì oppure a Ura Godoglio il venerdì sera sempre a partire dalle 21 si sfidano campioni ex campioni di serie A, campioni in carica, amatori, campioni di serie B insomma ce n'è per tutti i gusti e l'occasione per chi ancora non è avvezzo a questo sport se così si può definire è quella di imparare senza alcun corso di fatto l'abilità del calcio balilla proprio imparando dai più bravi dei tornei a estrazione per coinvolgere un po' tutti e spero fino adesso sta andando abbastanza bene io sto facendo un po' per conto mio diciamo il mercoledì a Rocca Sanca, martedì a calcio, giovedì siamo a Giuliano a Casa Blanca venerdì a Ura Godoglio da Cafeteria Volpi per riunire un po' tutti e fare conoscere questo sport